Buongiorno a tutti, sono Roberto Megazzini, direttore commerciale della PASO. Oggi mi trovo a Firenze con uno dei tanti miti organizzati con Prevenzione Incendi Italia che ci permette di portare in giro per l'Italia informazioni sui sistemi di evacuazione vocale. Sono anni ormai che la PASO sta spingendo in questo senso per sensibilizzare la progettazione ai sistemi di sicurezza e quindi ai nostri sistemi, quelli relativi all'evocazione vocale. Si parla di norme, le N5416 e N24 per i prodotti e la norma di sistema che per l'Italia è la Uniso 724019. L'affluenza è sempre molto grande, direi che oggi hanno risposto in tanti, ingegneri, periti e molto interessati alla nostra presentazione. Direi che questo è uno dei modi migliori per cercare di sensibilizzare le persone a queste nuove tipologie di impianti e tutto quello che riguarda poi la sicurezza. Oramai è da tempo che l'impianto di rifusione sonora non è più visto come un impianto centralizzato ma un impianto più decentralizzato. I compatti, i PAV, che è una serie nuova che da anni oramai la PASO sta proponendo, si prestano in modo eccellente a queste soluzioni. Quindi direi che continueremo a fare i nostri tour sia con associazioni come Prevenzione Incendio Italia o in altri modi o come PASO o il Focus Tour che è una delle iniziative che stiamo facendo in questo periodo. Vi ringrazio, ringrazio tutti i partecipanti che sono venuti e speriamo di fare cultura in questo mondo, soprattutto nell'ambito della progettazione. Sono impianti che vanno progettati e quindi questa è una delle cose più importanti che PASO sta cercando di fare oramai da anni. Grazie a tutti, salve!